Buonanotte, buonanotte amore mio, buonanotte tra il telefono e il cielo, vi ringrazio per avermi stupendo. Anche i sentimenti dei presenti, questa manifestazione è gloria di Dio, è Dio che vuole, non siamo negli uomini, Dio si serve attraverso gli uomini per realizzare dei momenti particolari, che sono questi, che utilizza le sue persone, quelle che sono più indicate, quelle che lo sentono vicino, a postrarsi affinché questi momenti possano vivere tutti quanti insieme. E' una piccola premessa questa, ma per un ringraziamento profondo al signor Cardinale Crescenzio Steppe, che nella sua grande volontà ci ha voluto dare un dono, un regalo, e questo regalo per noi è Dottorino Pammese, il quale nonostante i suoi numerosi impegni, le sue numerose problematiche che affronta tutti i giorni, si è dedicato a noi, e questo vuole essere un ringraziamento da parte mia, ma sono certo che sia anche un ringraziamento da parte di tutti quanti lui. Quindi oggi ufficialmente lui è qui con noi, è un momento importante, noi siamo vicini a lui, come lui resterà per sempre vicino a noi e ci accompagnerà anche nel termino spirituale che uno di noi nella sua vita conduce. Io vi ringrazio in questo momento, ma ringrazio lui, soprattutto lui, perché mi dà forza e ci dà coraggio di andare avanti. Quindi lo ringrazio di nuovo. Non so se ho portato, ma dopo gli faremo anche un applauso. Ma adesso siamo entrati nel momento magico della cerimonia, quindi il nostro cuore è rivolto solamente a Gesù, perché entri nei nostri cuori e ce lo faccia sentire vicino vicino, perché vi assicuro che più vicino sta, più forte ci sentiamo. Quindi uniti insieme nella preghiera. Celebriamo questo evento. Grazie.